Chiamiamo in pista con il numero 90 Anna Candolfi, che ballerà lo show Cleopatra. Musica. Sei molto giovane per essere una lea. Io sono la figlia di Iside. Cleopatra. Cesare, c'è soltanto un posto sicuro per me e il tuo letto. Musica. Perché dovrei scegliere te, Cleopatra? Qual è il motivo? Mio padre era un alleato leale di Roma e ha incoronato me prima di morire. È nel tuo interesse rimettere le cose a posto. È nel tuo interesse rimettere le cose a posto. È nel tuo interesse rimettere le cose a posto. Io sono l'unica vera sovrana dell'Egitto.